Prenderanno il via stretto giro i primi progetti del piano ADSU ProTer volto a promuovere i territori interni offrendo servizi agli studenti universitari. È il progetto dell'ADSU di Teramo finanziato dal PNRR per un valore di 2,2 milioni di euro e che punta a realizzare tre hub in provincia dedicati alla consulenza e all'orientamento culturale e sportivo per i giovani. Con l'arrivo di questo progetto, progetto che ci siamo giudicati grazie all'esperienza e al lavoro di tantissimi tecnici, tecnici molto validi e sulla collaborazione di tutti i componenti del CDA, È un progetto che oggi ci permette di mettere a disposizione e di lasciare alla nostra azienda un piccolo tesoretto di risorse che avrà una ricaduta sui giovani e sugli studenti universitari, non solo della provincia della città di Teramo come città universitaria, ma sulla provincia di Teramo come provincia universitaria. Il progetto è una ricaduta su 16 comuni dove andiamo a ricreare tutti quei punti di riferimento creando delle hub all'interno di tre strutture dove i sindaci hanno messo a disposizione i comuni le strutture per poter espletare questo progetto che era indispensabile per la realizzazione di tale. Il progetto prevede l'attivazione di tre centri di consulenza, orientamento e formazione, la realizzazione di quattro corsi di lingua, l'organizzazione di 32 attività musicali e teatrali, l'erogazione di servizi per sportivi, animazione territoriale, accesso alla pratica sportiva e l'assistenza personalizzata ai soggetti diversamente abili. Questo sempre nell'ottica di migliorare i servizi per i nostri studenti, ma servizi anche legati alla quotidianità e anche legati al trasporto e legati anche all'inclusione. Inclusione sia per quanto riguarda quindi l'importanza della possibilità di raggiungere la sede agevolmente, ma anche per attività sportive ed altro. Direi che piano piano questa rete che abbiamo creato con l'ADSU e soprattutto l'impegno notevole dell'ADSU e della Regione, come dicevo prima, delle reti dei comuni, sempre di più i nostri studenti vanno verso un più compiuto diritto allo studio.